Ciao a tutti ragazzi, eccoci in questo nuovo video ed è un video aggiornamento nel mio canale Ragazzi vi voglio dire per prima cosa che siamo quasi a 1000 iscritti, mancano 10 iscritti precisi ragazzi Manca pochissimo e le visualizzazioni sono circa sulle 120.000 visualizzazioni Vi volevo dire, vi volevo parlare un minuto proprio velocemente del mio canale In cui ho fatto un aggiornamento grazie a XNACIZZ, se è esatto il nome Che è un bravissimo designer e mi ha fatto questo design veramente spettacolare Seguitemi su Skype tra l'altro che sono scizza cacca E mettete un bel like alla mia pagina di Facebook e un bel like naturalmente a questo video Vi volevo parlare in special modo del WWDC 2013 ragazzi Hanno presentato il nuovo sistema operativo per Mac E' veramente figo, si chiama Maverick Purtroppo, cioè lo sfondo diciamo che è questo qua, quello nuovo Purtroppo però io non sono riuscito ad installarlo perché ho avuto dei... Sono le ore 19 Grazie mille Il mio Mac che mi ha avvisato che era le ore 19 Ma ho avuto alcuni problemi durante l'installazione Quindi non sono purtroppo riuscito ad installarlo Comunque vabbè, non cambia praticamente niente A parte le tab nel Finder ed inoltre le tag Che sono delle altre cose, però vabbè Nel caso che non sapete mi spiace E poi soprattutto ragazzi hanno presentato iOS 7 Subito delle immagini Ragazzi, iOS 7 Bellissimo Proprio una roba favolosa Cioè io lo amo questo iOS E' veramente bellissimo Assurdo ragazzi Non so come spiegare quanto mi piace questo sistema operativo Vabbè ragazzi, questo qua era un piccolissimo video aggiornamento Vi volevo dire che ultimamente non sto facendo tanti video Vabbè, perché ho comunque una certa mancanza di tempo Perché io da... Questa qua era l'ultimo giorno E ho fatto una settimana di credit tennis Ragazzi sono arrivato primo Per me Ma soprattutto anche per la mancanza di tutorial Insomma, non so che tutorial farvi Perché cioè Io ne ho fatti tantissimi di tutorial E naturalmente non le posso ripetere Quindi se avete una richiesta Quindi se avete una richiesta Magari anche solo una intro Se volete magari Vabbè, il tutorial per Comercare Online Ve l'ho già fatto Qua è... Vabbè, due minuti che sto registrando Ehm... Lasciatemi, non so, un commento Magari con quello che volete che io faccia Se avete una richiesta particolare Magari mi farò il tutorial E naturalmente comunque vi risponderò Lasciate un bellissimo like a questo video Se volete molti altri video tutorial E niente ragazzi Ci vediamo nel prossimo video E spero che sia un tutorial appunto Ehm... Ciao ciao! Ciao ciao!